Ciao umani e benvenuti in questo nuovo video Qui è FN10 che vi parla In questo nuovo video vi farò vedere questo video Ho caricato sto video soltanto perché Così avevo un link per bannarlo Se no Inizialmente potete vedere quanto sono un abbo con l'arco Non fa niente Ma che cavolo? L'avete visto? Mi ha dato tre colpi Beh non posso usare l'arco Non ce l'avevo anche l'arco Ma fa colpirmi da lontano E vabbè E non ho sei blocchi Si capisce lontano un mignolo In effetti Mi ha dato un colpo e non ho preso un knockback E vabbè ma l'importante non è che ho scritto male L'importante è anche quello Qua è tutto da FN10 E vabbè hertz a Gio a Gio Gio a